Cosa c'è per secondo, per cortesia? Ah signor, per seconda c'è la porchetta a pecorina. Come cucinata? Col fogo e ciamberciuffo di rosmarino piantato dentro il bucio del culo. Ammazziamo gli ostaggi! Ci metteranno te a capo dell'antilapina adesso? Cosa? Tu per adesso devi pensare solo a rimediarmi una macchina e soprattutto a trovarmi chi la deve guidare. Deve essere una che tiene le palle quadrate. Questo è già tutto risolto, ora rimedio il monnizio. Noi dobbiamo tenere in piedi sta maledetta federazione. Aggi c'è l'immortaggio tua, ma perché la guadano la paglia? Ammazziamo, ma se non c'è una lira. E vatti a prendere quel brillocco, no? Che ho i gioielli io? Eh? Dove stanno? Ma questo è davvero. E tu sei le coccio. Una comunicazione della Criminal Pole. Belli è a Roma. C'è un movimento grosso. Ah sì, eh? Lascia a perdere. Gianni, a voi vi piace troppo da sparare? Apri! Monnezza? Buonasera, tu. Belli. Lo conosci? Per Belli? Ciò si può affedare di questo monnezza? C'ha le sue idee. L'uomini che c'ho io non ci vogliono avere niente a che fa quelle armi. Noi lavoriamo puliti. Ammoni, hanno ammazzato la nocchia. Se tu becchi la mano dove c'è il fiammifero, io te devo da fuoco. Va bene? Se invece becchi l'altra mano dove c'è il gettone, tu mi devi dire il nome, l'indirizzo e il telefono. Deco il figlio della mignotta che ti ha fatto bruciare l'occhio. Va bene? Oh, fermate. È belli. Ma che vuoi fare? Ecco te il gettone. Ma che fa? Ti chiamai i pompieri, stronzo. Lui c'ha le sue idee e io c'ho le mie. E che sgarra l'ammazzo. La valigia, la valigia! Uno che ci potrebbe dare una mano è monnezza. Bravo. Questa sì che è un'idea. Se volete fare i pistoleri, vuol dire che non siete degni di appartenere alla nostra federazione. Questa. Federazione italiana gratta antiviolenza. Non dovremo addoperare le pallottole. Dovremo addoperare queste, le palle. Evviva la figa! Evviva! E' il culo! E' il culo! Io a Roma da sempre so' armonizia, uno dei migliori della mala vita. Faccio come mi pare, ne passo l'esistenza sulla melle di tutta sta città. E' il culo! 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 E' il culo!